La bomba sganciata da Maria Luisa Iacobelli, il viaggio a Miami con Noemi Bocchi, il tapiro di striscia la notizia di coppia al rientro e ora l'ultima, la più grossa Le ultime indiscrezioni del mondo del gossip svelano un possibile colpo di scena per Francesco Totti e la compagna che spiegherebbe anche la calma e la tranquillità con cui, almeno in pubblico la Bocchi, ha preso la notizia rimbalzata in ogni dove del flirt con la giornalista Noemi Bocchi, secondo il settimanale Diva e Donna, nasconderebbe una dolce attesa La rivista sostiene che la donna che da tre anni è al fianco dell'ex calciatore e ora personaggio più chicchierato della cronaca rosa potrebbe essere incinta Questa novità, come detto, spiegherebbe la sua serenità di fronte alle voci di una possibile, liaison, di Totti con l'influencer e giornalista sportiva Totti, Noemi Bocchi è incinta? L'ultima indiscrezione, quando infatti sono uscite le foto di gente e la relativa conferma di Maria Luisa Iacobelli circa un flirt con Totti, Noemi Bocchi ha replicato con sicurezza, dichiarando, non temo confronti con le altre E secondo Diva e Donna, potrebbe essere proprio una gravidanza a donarle questa tranquillità di fronte alle voci di questa liaison Sono poi volati a Miami e per molti quel viaggio ha rappresentato una fuga tattica per prendersi un momento di respiro dalla pressione mediatica La coppia è apparsa unita e sorridente. E sempre per la rivista che parla di, Dolce Segreto, Noemi, appare così pacata e sicura perché la gioia di un bebè in arrivo spazzerebbe via ogni tensione legata al gossip A breve Totti e Noemi Bocchi partiranno di nuovo, questa volta per Dubai per un nuovo evento sportivo e anche questo viaggio potrebbe essere un modo per sottrarsi ulteriormente all'assedio mediatico italiano, proiettando un'immagine di coppia solida e pronta ad affrontare il futuro insieme Di certo, sempre che sia vero, un figlio insieme rappresenterebbe una svolta significativa nel loro legame